Tra i molteplici tratti caratterizzanti la nostra epoca, signoreggiata dalla new economy e dai processi di sradicamento planetario legati al tecnocapitalismo, figura indubbiamente anche quel processo che voglio chiamare di destituzione di ogni soggettività collettiva e comunitaria. Stiamo infatti vivendo, a uno sguardo non superficiale, in un'epoca che sta progressivamente annientando ogni forma di soggettività tradizionale di tipo comunitario, solidale, plurale e collettiva. La nostra è l'epoca, come è stata definita, post-tradizionale di una società che si sta rimodellando integralmente in coerenza con gli assiomi portanti della monadologia liberale. La monadologia liberale, per impiegare questa espressione variamente mutuata da Leibniz, si caratterizza infatti per essere una società costruita integralmente su basi non sociali e dunque sul fondamento di un nuovo individuo desocializzato e anticomunitario, individuo che porta coerentemente a compimento le tendenze co-originarie rispetto alla modernità, la quale, fin dal suo sguardo originario, si caratterizza infatti per una valorizzazione robinsoniana, direbbe Marx, dell'individuo che procede congiuntamente con la neutralizzazione di ogni stanza comunitaria e plurale. L'individuo sovrano e autocratico diventa, fin dagli albori della modernità, il vero soggetto fondamentale. A partire almeno dalla svolta cartesiana, progressivamente intensificata e sviluppata con le figure successive della filosofia moderna, da Hobbes con il soggetto antropologicamente diffidente e anticomunitario, homo homini lupus, e con Giovanni Locke e con il soggetto pensato già come homo economicus che semplicemente valorizza il proprio patrimonio individuale proprietario. Ecco, potremmo dire che oggi, nell'epoca della new economy e della mondializzazione sans frontières, si è raggiunto l'apice di questo processo di individualizzazione che porta a compimento la nuova figura che con Castoriadì potremmo chiamare dell'individuo privatizzato. Individuo privatizzato che non conosce più alcuna forma di etica comunitaria, per dirla con Hegel, e che diventa esso stesso baricentro per il suo mondo, compiendosi in forma, potremmo dire quasi liturgica, nella nuova selfie generation degli individui autoreferenziali, cinici, che pensano unicamente a se stessi e che diventano ciascuno il baricentro del proprio mondo. E' per questo che nell'epoca della new economy e degli individui privatizzati con integrale managerializzazione del mondo della vita, spariscono le figure della soggettività collettiva. Non vi è più spazio per soggetti collettivi come i popoli, come le classi, come le nazioni e come gli stati. La narrazione liberale, coerente con la suddetta monadologia liberale, fa sì che figurino sempre in primo piano sempre solo soggettività individuali, scisse da ogni radice etica comunitaria solidaristica. Ecco che la nostra è l'epoca in cui compare sempre narrativamente enfatizzato e trasformato in soggettività dominante, o il businessman di successo, colui che ha saputo trionfare nel mondo del competitivismo no border, o, se riferito al giovane, la figura del giovane arrembante start-upper che si presenta al mondo intero, mediante l'apparato tecnocratico televisivo, come narratore di storie di successo. Suss stories, come pretende di dire naturalmente la lingua inglese, eletta unica lingua titolata a parlare nel mondo della governance globale, della spending review, che ha niente diritti sociali. Ecco perché nel nostro tempo non vi è più spazio per le soggettività plurali e collettive. Chiunque osi parlare di classi è neutralizzato dal discorso pubblico e dall'ordine simbolico dominante come un nostalgico comunista. Chiunque osi ancora fare riferimento ai popoli, alle nazioni, è immediatamente ostracizzato come impenitente fascista. Chi ancora evochi il nome dello Stato viene impietosamente diffamato come vetero stalinista. È solo l'individuo il soggetto che la retorica liberale riconosce e ammette. L'individuo che, è superfluo ricordarlo, non potrà mai fare rivoluzioni. Le rivoluzioni e le grandi trasformazioni in generale competono sempre solo a soggettività plurali, siano esse le classi, i popoli e le nazioni. Laddove invece l'individuo può sempre solo affermare se stesso nel mondo che già c'è, come peraltro sta avvenendo oggi con le nuove retoriche dominanti del businessman e dello start-upper. Ecco perché l'individuo privatizzato con integrale, potremmo dire, enfatizzazione privata della vita individuale è l'unico soggetto riconosciuto nell'odierno tempo della new economy globale senza frontiere.